Amate la gente che soffre, ci sono tante persone che soffrono e pochi si interessano a loro, amate chi sta male in ogni senso. Un saluto a tutti i mondolfesi, a tutti i malati, al personale dell'ospedale di Fano e agli orfani dell'orfanotrofio di Senigallia. Nelle parole che Donald Miro Giuliani ha lasciato nel suo testamento spirituale, c'è anche la testimonianza diretta del profondo legame che ha avuto con la comunità di Mondolfo. A distanza di meno di due anni dalla scomparsa dell'ex parroco, per molti anni anche cappellano prima all'ospedale Bartolini e poi al Santa Croce, il ricordo è ancora vivido nel cuore di chi lo ha conosciuto. A lui l'amministrazione comunale di Mondolfo ha deciso di intitolare il centro socioeducativo riabilitativo La Rosa Blu, che favorisce l'integrazione sociale dei disabili, prevenendo fenomeni di devianza e di marginazione attraverso attività sociali, culturali e ricreative. Domenica 30 ottobre intitoleremo il centro di urno La Rosa Blu a Donald Miro Giuliani, una struttura d'eccellenza per il territorio, nata circa 30 anni fa, grazie anche al suo impegno e che svolge un servizio importante per le famiglie e i ragazzi in situazioni di difficoltà. La cerimonia pubblica sarà il tributo di tutta la nostra comunità alla memoria di una persona straordinaria che era sempre pronta ad aiutare chi aveva più bisogno e che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra cittadinanza. L'iniziativa pubblica si svolgerà a partire dalle ore 9 con una messa di suffragio nella chiesa di Sant'Agostino, seguirà nei locali di Viale Vittorio Veneto l'intitolazione della struttura all'amato parroco. Durante la cerimonia, accompagnata dalla presenza del Corpo Bandistico Santa Cecilia, interverranno l'amministrazione comunale, la cooperativa Casa della Gioventù, le famiglie e i ragazzi della Rosa Blu, nonché i rappresentanti delle associazioni locali di volontariato. L'evento si chiuderà con una preghiera di benedizione del centro. Sarà un momento importante e condiviso per ricordare questa figura che ha fatto della sua umanità prorompente e della sua vicinanza autentica ai più fragili una missione di vita.